Ma guarda che se si vota subito sparisce anche lei E allora aspettiamo a cancellarli! Io mi rifiuto di avere paura! Oddio chi è? Cicchiamo! Certo un partito ha un senso Se riesce ad arrivare alla soglia è dell'8-10% Se non ci riusciamo perché noi non ci riusciamo Ma non è detto, non è detto, non è detto Hai voglia, vuol dire che ho fallito Tenga conto che per 30 anni pensavo che Montezemolo fosse un genio